Ciao a tutti, questo è il terzo episodio della serie Tutto Edoardo. Devo chiedere scusa perché è passato troppo tempo dagli altri due episodi. Devo chiedere scusa agli appassionati di Edoardo che hanno piacere di ripercorrere le opere di Edoardo attraverso questi miei video, ma ancora di più devo chiedere scusa a chi si sta appassionando a Edoardo grazie a me, magari grazie a questi miei video, lo dico assolutamente in maniera umile, però magari qualcuno sta iniziando a scoprirlo e ha da passione di scoprirlo grazie appunto a quello che sto cercando di portare qui su YouTube, su questo canale. Mi raccomando per sostenermi, per sostenere il canale più che altro, potete lasciare like e iscrivervi, trovate tutto qui sotto. Oggi parliamo di dolore sotto chiave, un atto unico di Edoardo De Filippo, come sempre il video è diviso in due parti, la trama e poi qualche contenuto extra. Cominciamo quindi dalla trama, i protagonisti di quest'opera sono due fratelli, un fratello e una sorella, Rocco e Lucia Capasso. Rocco Capasso è un ingegnere che da circa un anno si trova in Sardegna per lavoro, lascia a casa sua sorella appunto Lucia e sua moglie Elena, gravemente malata. Si è ammalata poco dopo la sua partenza per la Sardegna e non ha contatti con lei da circa un anno, perché la salute della donna è veramente in uno stato terribile che non le consente nemmeno di avere contatti con il marito. Dopo circa un anno in Sardegna, Rocco rientra a casa, rientra dalla sorella e rientra di conseguenza anche dalla moglie, ma non può vederla. Viene impedito a lui di incontrarsi, di vedere comunque sua moglie che è in un letto, perché sua sorella Lucia racconta che la donna sta male, sta veramente molto male. È allettata, la salute è praticamente appesa a un filo, e i medici hanno detto che può continuare a vivere in quello stato, ma non deve provare nessuna emozione, non devono esserci scossoni nella sua vita, anche un rumore improvviso potrebbe esserle fatale. Tant'è che Lucia, la sorella di Rocco, che si è presa cura di Elena in questo lasso di tempo, racconta di come cerca di trovare tutti gli accorgimenti per non far sentire i rumori a Elena, quindi mette una coperta sotto la tovaia per poggiare i piatti, mette l'olio nelle porte, mette i feltrini sotto le scarpe, perché ogni minimo rumore fa sobalzare questa Elena che poi va in affanno, quindi una situazione veramente disperata. Rocco Capasso è provato da questa situazione, è molto provato da questa situazione, tant'è che a un certo punto ha uno scatto di nervi, rompe un piatto, rovesce il tavolo, inizia a battere i pugni contro la porta dietro la quale dovrebbe trovarsi sua moglie, e Elena fino poi a spalancare questa porta, a entrare nella stanza urlando il nome di sua moglie. Il dottore ha detto che viene rumore, anche a distanza la scuote, e che un colpo secco, insolito, potrebbe essere la fine. Sì. Torno subito, eh. No. No. Resta. Rocco, che c'è? Chi ha detto il medico? Quello che ti ho detto. E se io butto un piatto in terra? Rocco! E una bottiglia? E se rovescio il tavolo con tutto quello che c'è solo? E se apro la porta facendola sbattere così? Oh, Rocco, per carità! Elena! Sono tutto mio, sono tutto mio! Ma non la trova. Ho appena detto, infatti, la porta dietro la quale dovrebbe trovarsi Elena. Sì, perché quando Rocco entra nella stanza, sua moglie non c'è, nel letto non c'è nessuno. E giustamente Rocco diede spiegazioni a sua sorella Lucia, e inizialmente l'accusa di aver coperto, di aver coperto sua moglie in una eventuale fuga d'amore con un altro uomo. Ma la verità è ben peggiore, e Lucia rivela all'uomo che Elena è morta. È morta da ben 11 mesi, e lei non ha mai detto niente al fratello, ma ha finto che la donna fosse ancora in vita, ovviamente in uno stato però ultra negativo di salute, proprio per evitare di dover passare, insomma, almeno, che ne so, telefonicamente, la donna all'uomo. Rocco non capisce, non riesce a capire perché sua sorella ha fatto questo, l'accusa, l'accusa di essersi messa anche sopra quella che è la normalità e il normale svolgimento di certe situazioni, anche lo stesso lutto. L'uomo accusa la sorella di aver privato lui del lutto che una persona deve provare, della disperazione, del pianto che un uomo deve avere, deve sfogare, insomma, di fronte alla morte della moglie, magari anche dell'essere consolato da chi gli sta intorno, dagli amici, e infatti dice non posso adesso piangere dopo che mi dici che è morta da ben 11 mesi, cioè sono vedovo da 11 mesi. Addirittura a un certo punto accusa la sorella di aver trasformato lui in un assassino, perché? Perché lo scatto d'ira che poco prima lui aveva avuto, se realmente c'era Elena in uno stato così delicato dietro la porta, avrebbe probabilmente messo fine, ecco, alla vita della stessa Elena. La sorella si giustifica con lui dicendo che ha fatto tutto questo per preservare la sua salute, per non farlo cadere in depressione, o addirittura per evitare qualche gesto estremo, che lo stesso Rocco aveva minacciato di fare nei mesi prima perché era troppo innamorato di sua moglie, non era sicuro di poter reggere a questo colpo. In realtà Rocco le spiega che queste sono frasi fatte, o comunque sono delle frasi che si dicono in un certo momento di disperazione, ma che poi, quando le cose avvengono, il più delle volte subentra la lucidità e soprattutto le persone intorno a te ti aiutano a elaborare il lutto e quindi a evitare anche gesti estremi. Ma non è solo questo, perché Rocco rivela a sua sorella che da tanto tempo ha una frequentazione con un'altra donna, ha creato un nuovo rapporto, un rapporto extra coniugale, anche se lui dice a questo punto non è nemmeno così perché io sono vedovo da 11 mesi, ma una relazione che sta finendo, sta finendo con quest'altra donna proprio perché l'uomo non può ufficializzare questo rapporto perché c'era sempre questa moglie molto malata, ma ancora in vita. E quindi accusa la sorella anche di aver compromesso questa nuova relazione. Dolore sotto chiave è un atto unico scritto da Edoardo nel 1964. In realtà è stato riscritto da Edoardo nel 1964 per il teatro perché Edoardo lo aveva già scritto nel 1958 come radiodramma e, attenzione, Edoardo non ha mai interpretato questa sua opera né in teatro né nelle trasposizioni televisive del suo teatro come invece ha fatto con altri atti unici che poi vi racconterò nel corso di questa serie. Ad esempio c'è nel DVD sei atti unici in bianco e nero il titolo già dice tutto ci sono appunto sei atti unici che Edoardo ha registrato come edizioni televisive questi però risalgono al 1956 quindi prima della stesura di Dolore sotto chiave. Comunque nel ciclo degli anni 60, nel ciclo degli anni 70 Edoardo non ha ripreso questa commedia quindi non l'ha mai interpretata però potete sopperire a questa cosa se vi va di vivere Dolore sotto chiave interpretato da Edoardo attraverso la versione radiofonica che si trova e che trovate anche su questa stessa piattaforma io vi consiglio di ascoltare l'atto unico in versione radiofonica per due motivi il primo perché è interpretato appunto da Edoardo e nella parte di sua sorella Lucia in questo caso c'è sua sorella Vera Titina De Filippo che è stata un'altra grandissima attrice e poi perché l'esperimento del teatro radiofonico è una cosa molto curiosa che io sto provando in prima persona da qualche settimana che mi sta anche molto appassionando e mi accompagna anche in metro, in treno perché appunto si può ascoltare e attenzione non è l'audio di una versione televisiva o teatrale estratto e quindi tu ascolti solo l'audio e ti viene a mancare la parte visiva ma sono proprio delle registrazioni di teatro per la radio quindi fatte apposta, registrate apposta per questo uso, per questo scopo quindi una cosa veramente molto interessante che Edoardo ha fatto prima anche del ciclo televisivo non c'è solo Dolore sotto chiave ma ci sono anche altre opere e ve lo ricorderò quando le affronterò quindi questi erano i contenuti extra non so se conoscevate già questa commedia magari se la recuperate interpretata da qualcun altro oppure nella versione appunto radiofonica di Edoardo magari potete venire qui sotto e dirmi se vi è piaciuta o meno noi ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti